Riprende la nostra rubrica la voce delle associazioni e andiamo a incontrare Adriano Pizzini, presidente provinciale dell'Arcicaccia di Brescia. Sta per cominciare la nuova stagione venatoria all'insegna qui in Lombardia ancora di tanti problemi. Tanti problemi a cominciare proprio dalla distribuzione dei tesserini, affidata ancora una volta ai comuni, si era chiesto Adriano di poterli ricevere a casa, al proprio domicilio e invece così non è stato. Non è stato così perché è il volere forse dell'UTR, non lo so, della regione Lombardia che crea sempre dei casini. Sta sempre creando dei casini in modo di poter far smettere diversi cacciatori perché addirittura i comuni che hanno ricevuto i tesserini dovrebbero distribuirli loro invece di darli a delle associazioni per distribuire i tesserini. Delegano le associazioni? Delegano le associazioni, non è giusto che delegano le associazioni perché c'è anche privacy del tesserino, perché uno può aver combinato qualcosa, ma c'è il tesserino. Sono sempre dei casini, chi comuni, di 136 comuni, 115 hanno aderito, 115 comuni qualcuno verrà denunciato, quarelato perché è andato dalle associazioni di tesserini da distribuire a tutti i cacciatori. Non è giusto, sono delle associazioni che hanno fatto un po' di casini e se manca un tesserino, chi va? Deve andare ai Carabinieri a fare la denuncia di smarrimento, quel signore lì, deve andare all'UTR a ritirarsi il tesserino prima di fare la domanda, invece se le distribuiscono i comuni, che non ce l'ha il comune, dice il comune è così e così, quello che succede è l'interessato del comune andrà a prendersi perché non l'ha ricevuto, ma se un'associazione perde un tesserino o non lo vuole dare o lo nasconde, sai che i casini che sono in giro? Pensare male è meglio, però pensare male si fa presto. Ecco, questa è una delle tante problematiche che sono nate in questo periodo estivo proprio per quanto riguarda la regione Lombardia, ma ce ne sono altre perché siamo arrivati quasi alla vigilia dell'apertura, non sappiamo ad esempio ancora quante allodole si potranno prendere, il Veneto è arrivato a 100, così altre regioni, in Lombardia dicono 50, quindi sono i dirigenti che decidono. Sono i dirigenti della regione Lombardia che decidono quelle cose qua, non ci sa ancora niente di quello che fanno, non lo sappiamo cosa vogliono fare con i signori lì, io dico che ritornando ancora alla gestione della caccia, dovrebbero essere ancora le province a prendere in mano la situazione della caccia, e voi che sappiamo là in regione Lombardia quello che succede qua a Brescia o a Mantua, non sanno niente, stanno solo creando dei casini, addirittura anche quei ragazzi che hanno fatto il corso per l'abilitazione venatoria, hanno fatto i corsi a luglio, poi dieci giorni prima che gli arrivino l'adesione per la... Alla fine di luglio stavano ancora facendo gli esami? Stavano ancora facendo gli esami, quelli non fanno a caccia poveretti, andranno a caccia forse a novembre, forse, scherziamo, fanno smettere la gente di andare a caccia, poi tutti i quiz che hanno fatto nuovi, hanno creato, il 10 di maggio hanno rifatto di 100 quiz, ma scherziamo, uno che studiava, uno che se dovessero aver fatto gli esami a maggio cosa avrebbe fatto? E si parlava di semplificazione, invece, qui hanno una complicazione. La complicazione è che tanti ragazzi non fanno più neanche licenza. Adesso c'è un altro problema che va dipanato, che è quello relativo alla segnatura immediata sul tesserino, oppure al momento della raccolta per il capo abbattuto. Speriamo che sia quello del capo abbattuto al momento della fine della giornata, speriamo, perché ho detto qualche parola, forse andrà a buon fine questo. Abbattuto e raccolto. Abbattuto e raccolto, sì. A fine giornata di caccia, perché se dovessimo segnalarli tutti è un casino della Madonna qua. Invece di andare avanti andiamo sempre più indietro, sempre più indietro e la gente si stanca. Chiede delle cose che non sappiamo neanche noi dirigenti a rispondere a volte. Invece in questi giorni, Adriano, c'è stata la richiesta da parte delle associazioni ambientaliste e anche dall'ISPRA, rivolta al Ministero dell'Ambiente, di limitare un pochino la stagione venatoria proprio per i tanti incendi, per la siccità. Ecco, voi come Arci Caccia, come vedete questo invito fatto da ISPRA e da tutte le associazioni ambientaliste? Ma io lo vedo non di buon occhio, perché è giusto che un cacciatore, adesso non è più come una volta, il cacciatore è giusto che vada a caccia dal 17 alla terza domenica a settembre, come è sempre stato, che tanto andranno fino a mezzogiorno per la stanziale, come fanno le altre regioni, le altre province. E anche la migratoria, se non c'è il cane pomeriggio, io penso che l'ISPRA dovrebbe dare delle soluzioni in base alla selvaggina. Ecco, la sensazione che abbiamo è che l'ISPRA sia diventato un ente politicizzato. È un ente politicizzato, addirittura sarà mantenuto dalle associazioni degli ambientalisti, perché è una cosa inaudita che non dobbiamo mai sapere cosa succede sull'emigrazione, su quello che è l'ISPRA, che che starà a fare. Poi noi dovevamo fare degli osservatori... I dati sulla piccola migratoria non vengono mai dati. Noi dovevamo fare degli osservatori regionali, invece non abbiamo mai fatto niente di queste cose, non dovevamo fare e lasciare da parte l'ISPRA, perché a questo punto qua è un casino alla Madonna con quella gente lì. Il problema è che le associazioni venatorie sono sempre troppo divise tra di loro. Esatto, sono troppo divise solo per interessi di tessera, invece di essere tutti uniti e di... Non c'entra la tessera, non c'entra la tessera, c'entra solo il problema di dire tutta la verità ai cacciatori, invece purtroppo non lo dicono mai, perché uno perché deve fare la tessera uno, le conto sempre balle, la gente... Come quella delle deroghe, sappiamo che per il sesto anno non ci saranno deroghe, ma c'è ancora qualcuno che dice ma sì, ma al tavolo caccia, ma questo, ma quell'altro, insomma lo sappiamo benissimo, per il sesto anno niente deroghe. Niente deroghe, questo sicuramente niente deroghe, non ce l'ha sempre... E niente richiami? E niente richiami, lì, io ho interpretato non facendo una volta, mi ha detto che ero matto, però se non ci sono richiami, mettiamo con le reti dei Corregoni che prendono gli Avarelli con il numero di Fonofino, non lo so, per richiamo, uno che va all'appostamento con un richiamo, che cosa fa? Adriano, cosa ti senti di dire all'inizio della stagione venatoria ai tuoi associati, adesso che c'è anche il problema della viaria? Io non dico solo i miei associati, tutti i cacciatori bresciani, li auguro che vada bene questa stagione venatoria, mi auguro che tutto vada bene, invece sul fatto dell'influenza aviaria vorrei dire solo due parole, che ho detto che stiamo curando i timori in Italia, i ragazzi che vanno a scuola devono essere vaccinati, non siamo capaci di togliere l'influenza aviaria in modo che di poter lanciare della selvaggine al territorio, ma scherziamo e trasportarla, ma qua è un casino, una madonna con quella gente lì, o è un interesse di qualcuno, non lo so, per forza, dici che c'è sotto qualche interesse, ah per me c'è sotto qualche cosa che non quadra, tutti gli anni è così, non lo so, alla vigilia dell'apertura arriva l'aviaria? Sempre, sempre, ma lì è una cosa, non lo so, curiamo tutto, è possibile che non curino l'influenza aviaria di Poli, ma scherziamo, dei capannoni che vaccinano tutti, è sempre del casino. Ringraziamo Adriano Pizzini, l'Arci Caccia di Brescia, Caccia e dei ritorni sulle tracce della Passione.